Lunedì 12 marzo il sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti ha consegnato il sigillo della città a Uole Shoinka. Lo scrittore nigeriano, premio Nobel per la letteratura, universalmente noto anche per il suo impegno civile, è il protagonista della diciottesima edizione del Festival Dedica. Il sigillo della città è un riconoscimento che viene attribuito a personalità che si sono particolarmente distinte per il loro impegno nell'ambito sociale, culturale e civile. Abbiamo dato il sigillo della città a Uole Shoinka, grande ospite di questa diciottesima edizione di Dedica. Uole Shoinka è stato il primo premio Nobel per la letteratura africano, un grandissimo personaggio che va al di là della letteratura per il suo impegno politico verso i deboli, per i diritti, contro i fondamentalismi di qualsiasi tipo. La città ha dato il suo sigillo con le sue porte aperte proprio ad indicare a Shoinka la nostra ospitalità, ma anche a chiedergli di usare queste porte aperte come lui fa dalle sue finestre nigeriane verso il mondo, da usare questo speciale punto di vista per arricchire le sue osservazioni e, chissà, per consentirci di avere anche in futuro degli scambi più proficui come ci sono avuti stamattina con lui. In seguito alla cerimonia, in una sala gremita, sono stati premiati i vincitori del concorso Parole e Immagini per Uole Shoinka, manifestazione collaterale a Dedica, cui hanno partecipato 120 studenti delle scuole superiori. Sono stati dati dei premi a varie classi e alunni delle scuole superiori, sia di Pordenone che di San Vito, e vedendo la qualità dei lavori, come questi ragazzi si sono impegnati, c'è da rincuorarsi. Ma del resto lo sapevamo. È stata un'emozione per loro, ma vi garantisco, soprattutto per noi. Quindi, alla prossima Dedica.